C'è c'è drogo Ragazzi allora uno alla volta vengono il 29 che ci sono io e mi date le armi al deposto Noi Buon cazzo, carabine, tutto Cazzo si riusci a far l'uno eh? Dov'è che stanno stando da davanti o da dietro? Colla Quinoplic'e DCare Si Se C'è M C'è C'è Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!